78 autori esorcizzano i cattivi pensieri in tempo di coronavirus. Questo è il proposito contenuto nel libro Abracciamo il mondo, presentato il 14 settembre nei giardini della Biblioteca Sata di Nuoro, che ha anche patrocinato l'evento. Una serata letteraria e artistica a cui hanno preso parte numerosi spettatori, ben distanziati tra loro secondo le norme anti-covid, e che ha avuto come fulcro una serie di riflessioni intorno al periodo storico che stiamo vivendo, cercando di esorcizzare i timori e le preoccupazioni che inevitabilmente ognuno di noi sta provando. Durante la presentazione del progetto, ideato da Leonardo Omar Onida e pubblicato dalla casa editrice Sarda Ludo Edizioni, hanno trovato spazio le performance di alcuni dei 78 autori nazionali e internazionali del volume, che tra poesie, racconti, disegni, hanno voluto dare la loro interpretazione della pandemia scaturita a caldo, proprio nei giorni del lockdown. Oltre alle letture, hanno trovato spazio anche le note dei musicisti nuoresi Jacopo Tore, Mauro Tore, Matteo Spano e Pierluigi Manca. Oltre a regalare sorrisi a chi lo legge, il volume contribuirà anche a sostenere le spese mediche di chi versa in condizioni critiche. Tutti i proventi delle vendite del libro andranno infatti a emergency.